Nella seconda metà della settimana di lavori di giugno, il plenum del Consiglio Provinciale ha approvato due proposte della Südtiroler Freiheit contro il ripristino della leva obbligatoria in Italia e per l'abolizione del commissariato del governo, nonché una mozione di Partito Democratico, Tim Kai e Gruppo Verde, per il congedo di paternità obbligatorio. Respinta invece mozione di Fürs Südtirol mit Wiedmann per l'abolizione dell'obbligo di profilazione genetica dei cani e l'introduzione di un'imposta sui cani, di Südtiroler Freiheit per l'applicazione della proporzionale nell'assegnazione delle abitazioni IPS, del Tim Kai per una strategia degli eventi in Alto Adige e per l'abolizione del guest pass finanziato dal contribuente, del Gruppo Verde per la chiusura dei passi dolomitici e della Fry Fraction per la promozione degli impianti fotovoltaici. Nel tempo della maggioranza approvate le proposte di SVP e la Civica per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità, per formare le piccole e medie imprese sulla cybersicurezza e per una banca dati unica del conteggio delle biciclette, una mozione dell'SVP per il confezionamento personalizzato in blister per le residenze per anziani altoatesine e una di SVP Fratelli d'Italia e la Civica per agevolare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nell'impiego pubblico. In aula sono intervenuti in audizione i componenti della Commissione dei 6 e dei 12 nominati dal Consiglio per la scorsa legislatura che hanno riferito delle norme di attuazione approvate e di quelle attualmente in discussione.